salve mi chiamo simone sciulli e sono il presidente della fondazione alice onlus vorrei provare a spiegare in 20 secondi che cosa stiamo cercando di fare il progetto si chiama un tetto per tutti e vuole fare impresa vuole fare impresa in un momento in cui l'impresa è impossibile specie in ambito turistico dove i problemi legati al covid sono davvero importanti non solo un tetto per tutti darà spazio ad un'impresa sociale gestita direttamente da un gruppo di ragazze disabili e direttamente da loro vuol dire che c'è bisogno del loro coraggio della loro forza della loro determinazione della loro follia per mettere in piedi un qualcosa di veramente straordinario io invito tutti a seguirci a darci una mano e a cercare di comprendere realmente che ci vuole il coraggio e la forza di un disabile per fare quello che in un momento come questo nessun altro ha la forza il coraggio di fare grazie a tutti